Che effetto le ha fatto vedere raccolta in un libro la sua vita o meglio alcuni suoi episodi? Beh, leggendolo in un momentino mi sono reso conto di quanto è stato veloce il passaggio dai 5 anni ai 60 anni e lo rivedo in un attimo, per cui è un effetto strano, gradevole. Me lo rileggo per vedere come ho fatto a vivere quei periodi così velocemente.